Ello, come va? Tutto bene, grazie. E te? Bene! Dici cosa sta per succedere qua davanti? Le manichie stanno per volare tutto. Ok, perfetto. Ciccio vola di sicuro. Allora, da destra sono Ciccio, la Steffi, Paolo e Guido. Ma Ciccio, la Steffi e Guido sono incompetenti. Ciao! Raga, e poi spostatevi velocemente, che arriviamo noi. Vediamo... Non è caduto! No! Eccolo! Chiara, Claudia e l'Atalantino. La Lalla, la Giulia e la Serena. Ah, no, è la Salvia. Raga, io mi... No, non arriva. Lollo. 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 E Maddalena. Sempre così, eh? Ma lui è bravo. Bravo, Lollo.